ciao cari buonasera benvenuti al vito weekly settimana interessante non è siano successe mille cose diciamo che la roba più clamorosa della settimana è una sveglia questo potrebbe lasciare intendere che non è andata benissimo partiamo però con la recensione di shutter space starfield perché la settimana scorsa non l'aveva recensito questa settimana la recensita serino vediamo se c'è qualche altro italiano perché non mi ricordo esattamente quando è uscito ma secondo me non era uscito non è andato proprio bene 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 solo 61 quindi le critiche non sono solo di scistormo su steam ma proprio ha fatto schifo anche la critica poche recensioni però decamashino 83 io lo volevo giocare l'ho acceso starfield ho messo la patch delle texture se no faceva veramente cagare senza patch texture una roba proprio brutta alla vista ho cominciato una quest perché mi ha parlato una all'aeroporto ed ero convinto fosse quella nuova poi mi sono andato a informare non era quella nuova ho fatto tre missioni che non c'entravano un cazzo adesso però lo passo me lo gioco più avanti visto che non è iniziato ho da fare silent hill 2 poi le fantazio che ho l'alterno e poi magari questo non vedete deve uscire anche neva devono uscire diverse cose ci devo stare dentro oniric è stato ampiamente sotto la sufficienza per un bel pezzo gli va bene che ha raggiunto il 60 a cura di nicolas mercurio che qui invece è piaciuto e io me fido perché secondo me c'è pregiudizio sostanzi pregiudizio sostanzi shutter space è un dlc che espande il lore del mondo di starfield è la lore o il lore domanda proprio dettagliando un racconto piacevole ben coinciso coinciso in che senso è coinciso che rende chiara la trama traculenta e brutale della casata varun che merita assolutamente considerazione da ora in avanti dal punto di vista ludico ecco mi sarei aspettato qualcosina in più o qualche aggiunta come è capitato in passato con altre opere di betesda il risultato finale è ben il risultato finale comunque buonissimo stavo leggendo sono io mi sono incartato con ben coinciso che cazzo vuol dire che è ben coinciso coincidere avvenire verificarsi corrispondere esattamente collimare un racconto piacevole ben coinciso la lore la lore siete d'accordo con me sta cosa non la capisco però ben coinciso non l'abbiamo capita game star vanda l'igiene forge svegia 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 e veri ai 60 e multipli forse hanno giocato un'altra versione vabbè 60 di veri ai a cura di alessandro bruni attenzione pur muovendosi a partire da partire da premesse davvero intriganti shutter space è un contenuto che si muove col freno tirato tra luce e ombre mancando di aggiungere al mosaico contenutistico di starfield un tassello di grande valore al netto delle sue fluttazioni qualitative il 10 di betesda non risulta in alcun modo spiacevole ma è difficile non attribuire al pacchetto i connotati di un'operazione portata avanti almeno in parte col pilota automatico una direzione che fa sorcere il naso anche in relazione al prezzo di listino troppo alto il rapporto alla portata e alla qualità dell'offerta è conciso aveva più senso sono d'accordo non era non era comunque secondo me neanche che è bella perché è corta non è farlo a sensazione andiamoci a leggere invece il metacritic di phoenix frings che noi proviamo domani mattina indica che conoscevo avevo scoperto sembra molto narrativo secondo me dura due tre ore non dura di più andiamo a vedere anche all on to beat però deve essere una roba molto forte un'esperienza forte da quel punto di vista ho grandi aspettative credo ci sia il boxino di giulia martino che se ricordiamo quella che scrive i boxini belli dura 4 barra 5 ore 74 10 recensioni multiply gli da 70 pensavo un po di più di simone tagliaferri però non di giulia perché io mi ricordo giulia phoenix springs è un'avventura molto più tradizionale di quanto ci aspettassimo il che non è necessario veramente un male a penalizzarla il suo volere essere anche altro sia la descrizione di un mondo più ampio e complesso di come appare che di fatto funziona a sé ma va a penalizzare la struttura del gioco con gli elementi essenziali obbligatori che rimangono in qualche modo sepolti dal resto insomma finché si va che si scoprono dettagli un'esperienza che appare costruita davvero bene ma quando si vuole proseguire arrivano degli intoppi che rischiano di distruggere il flow provo a fare cose del cazzo secondo me mi sono ammosciato terribilmente sandro ciao sì sì 4-5 ore è perfetto però mi ha ammosciato sapere che vuole fare ste minchiate italiane non ce ne sono più quindi proseguiamo abbiamo dragon ball spark in zero che mi avete ricordato con il pre show io non l'avevo segnato neanche come metacritic questo per farvi capire quanto me ma rotti coglioni sentir parlare di dragon ball con tutto il rispetto per la community che sapete che io oh quanto cazzo la stimo la sostituirei con delle ia eh però la stimo moltissimo però minchia si ha rotto il cazzo dragomo dai se vuoi dica ha rotto il cazzo dragomo basta andiamo avanti basta 50 anni con le persone dei 60 anni che si spompinano perché vedono Goku dai posso anche capire che la gente oggi si è lì a masturbarsi su soprano arrivo anche a dire che guarda pure star wars per me è più tollerabile di starsi lì a oh 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 a per drago ma è basta è che è vero eh non è che tutto quello che vi piaceva da bambini ci dovete sta affezionare in questo modo eh io spero che i cinquantenni del futuro non saranno lì a fare quello che fanno oggi con dragon ball con peppa pig per esempio dai ragazzi eh sta pure lì andare avanti andare avanti minchia fatelo su evangelion fatelo su cowboy b-pop porca miseria siete rimasti a dragon ball Goku non gogul voglio sottolineare ho detto gogul vabbè entrambi però gogul eh se devo dire che tutto sommato stava bene su tutto che brutta immagine dice simo o su france su france va bene fabio e france è una roba però non è una roba non è dragon ball smettila dice roll c'è gente che ancora va dentro le puntate 9 di dragon ball io non ho parole dice sandro lolle momento ed 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 lord non so di che parli lolle perché sono una persona adulta non so cosa voglia dire ed 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 or eeeh scar wolf ve l'ho ricordato io ma ad esempio anche a me frega cazzi mentre sempre mazzo portato Goku dall'altro no no io voglio che sia chiaro questo io quando ho letto il fumetto ero un po grande però c'avevo secondo me lavoravo 18 19 anni no in realtà no forse 16 17 perché i fumetti li ho scoperti prima i manga eeeh madonna ma si è aperto il cervello bellissimo bellissimo il manga proprio bello bello il cartone faceva cagare pure all'epoca Ma il manga bellissimo E porco zio Però stiamo nel 2024 Quasi 2025 Vamo un passetto avanti Io mi hai capito Ma deve avere qualcosa che non colgo di cioliriche Ma se quelli della tua generazione Ancora piangono quei robottoni No Ronin Possiamo attaccare anche loro in realtà C'hai ragione Parte meno di Dragon Ball Io non li sto vedendo andare a raccogliere Le uova di Pasqua di Mazinga Z A pesarle per prendersi la sorpresina migliore di Mazinga Z Ronin se mi permetti Però se lo fanno sono d'accordo con te Colocasia Speriamo di sì Voglio un picchiaduro di Peppa Pig Delta Cristo Santo non nominatemi Evangelion Ho persino regalato tutte le action figure Mi manca solo di far esorcizzare la casa Ecco su Evangelion io sono un po' bloccato Ammetto che se vedo una roba viola e verde insieme Sono rincoglionito Frecciatina No frecciatina a diversi Non solo a Capsits Comunque Goku ha rotto i coglioni dai tempi delle VHS Della Yamato Video Io guardo il momento in cui ho detto Bassa è stato Dragon Ball GT Che comprai parecchie VHS Poi e prima di cominciare a guardarla Poi cominciai a guardarla e dissi Li mortacci Mi ha fatto Quanti soldi ho buttato E là è bassa Lì è finita però Tra l'entusiasmo e Dragon Ball GT Erano passati tre anni nella mia vita Capite? L'esaurimento per Dragon Ball Era di tre anni Cioè si esaurisce una roba del genere Minchia Ancora stiamo lì Con le palle di fuoco Dai Non mi ricordo che la stiamo facendo Ah Dragon Ball Voti della Madonna Tra l'altro eh 90 Mille 90 mila De che macchina? 88 Chi è? San Piet No scusa San Pietro Di Pietro Iagullo Non è santo Cap parlava di Scudetto Per l'acquisto di dobbio Non so se l'ha proprio detto Ma secondo me Un po' ci credeva Anche io ce le ho tutte No io poi le vendetti tutte Ho venduto quelle Ho venduto Robotech Che invece era una figata cosmica La prima serie di Robotech Secondo me se ne parli oggi Bene Ma se oggi vai a cercare L'uova di Pasqua Le sorpresine di Robotech Ti dico Minchia Vai avanti Stessa cosa con GT Mollai tutto Fortunatamente era tutto A scrocco dal cugino Pazzo Che ha ancora la camera Piena di fumetti Action figures A 45 anni Detto con affetto ovviamente Salutiamo il cugino Che stimiamo moltissimo E che guarderà sicuramente Capcomics L'unica persona Che stimo Che mi dispiace Che è ancora un po' Legata a Dragon Ball È Pelati e fumetti Che è un altro Chiaramente livello Ma l'uomo è Capcomics È la stessa buca Faccio Sul pelati e fumetti E ti faccio finta Che non ci abbia pure lui Sta fissazione Insopportabile Magari lo fa per lavoro Dragon Ball Sparking Zero Sarà pure il primo capitolo Della serie Butokai Tenkachi A non chiamarsi Butokai Tenkachi O il primo a non indicare La Z Con cui è noteramente Indicata la seconda parte Della serie Eppure a tutti gli effetti Un capitolo 4 La giornata Il 2024 Con tantissime luci E particellari Incredibili E qualche ombra Di cui alla fine Si può tranquillamente Fregarsene Voto 8.8 Spazio Games 8.6 Non abbiamo mai letto Spazio Games Leggiamo Silvio Mazzitelli Dragon Ball Z Sparking eccetera eccetera E senza troppi giri di parole Il gioco definitivo Per ogni fan di Dragon Ball Il suo sistema di combattimento Riprende migliore esponanzialmente Quello dei vecchi capitoli Del PS2 Rendendo ogni battaglia Il più simile possibile A quelle viste negli animi Nel manga Dell'opera originale Ottime anche le varie modalità Con quella dedicata alla storia Che nasconde delle belle sorprese E la battaglia personalizzata Che ha il potenziale Per far durare il gioco Molto a lungo Solo per parlare Dei contenuti Dedicati al single player A questo Aggiungete un roster Che a definire Imponente E dir poco E tante piccole chicche Ve li fanno Certo I difetti non mancano Specialmente legati Al bilanciamento Dei combattimenti Ma se siete degli Hniti appassionati Di Dragon Ball Non preoccupatevi Perché percepirete Da ogni singola scelta Compiuta dagli sviluppatori Che questo gioco È davvero fatto Per voi Andiamo a vedere La più bassa La più bassa È 5 però Ti voglio bene Gaming Edge Vediamo la più bassa Italiana Intendevo E ovviamente Era un mezzo punto Di centesimo Sotto agli altri Cazzo Stanno tutti al centro Gli italiani Mannaggia la troia Everiai È la più bassa Con 8 e mezzo Non di Everiai Di Dragon Ball Ma abbiamo letto Due Se ce n'era una Che ne parlava Malissimo La leggevamo Mi sento attaccato Sul personale Dal discorso Casa piena di fumetti No 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 L'ha detto Delta Io la persona Che a casa Piena di fumetti Non mi sposta Per niente Perché è una roba Che è amato Una roba Che può rileggere Ogni tanto io stavo pensando di riprendere Ratman in questi giorni che è uscita in edizione Fika in digitale anzi forse la prima in digitale non è quella la critica la critica è aver lasciato nella vostra bocca il pisello di Goku e stare ancora là a succhiarlo a Goku quella è la mia critica non che te leggi Dragon Ball e ti piace ancora e stare allora troppo, quello è troppo quello per me è decisamente troppo lui ce l'ha con Dragon Ball no, con quell'attaccamento una persona sana di mente di 50 anni non dovrebbe essere contento che esce un gioco di Dragon Ball del cazzo come sarà su Spacchi in zero perché loro ti dicono che è bellissimo ma sarà quella puttanata di giochi orribili che uscivano su PS2 ci stanno i puttapazzetti che semenano le figo perché con Fighters non ho nessun problema è un bel picchiaduro tecnico con dietro la grafica di Dragon Ball minchia, l'ho comprato è entusiasmo meno però ci sta sta roba no proprio oggi è uscita la nuova serie di Dragon Ball c'è un'altra nuova a Monaco ma è morto Toriyama figliano anche le serie adesso preferisco Bulma di Ceroni eh ma non è quello che piace di Dragon Ball Halo si rilancia in Unreal Engine 5 C4C Industry diventa Halo Studios e ha vari giochi in sviluppo ma quindi si sono anche rinominati proprio è tipo quelli che si vanno a nascondere sotto copertura fondamentalmente protezione testimoni ma se hanno pesato le uova di Pasqua al supermercato per capire i personaggi dietro c'è un problema però attacchiamo solo loro non gli altri fan di Dragon Ball no no Oniric anche i fan di Dragon Ball in genere quelli che oggi sono così attaccati a Dragon Ball che sono il motivo per cui esce un'altra serie di Dragon Ball perché se vi sento rompere il cazzo alla remaster di Forbidden West perché non escono abbastanza giochi di Horizon Zero Dawn nuovi giochi, nuove P eh minchia ma aspetta che così non vedete le mani sono un po' due pesi e due misure perché Horizon Zero Dawn non va a rotta il cazzo e Dragon Ball tanti amici a casa salutiamo gli amici di Dragon Ball qui stimiamo molto nuova serie fresca io ho preferito Kakarot per rivivere la storia stop dice Davide Daima l'ultimo lavoro di Toriyama TB Daima Dragon Ball Daima ah l'ha fatto Toriyama però l'avranno fatto quelli Aura hanno il tuo supporto El Maria qualcuno ha detto a Real Engine per caso sì El Maria faceva degli appunti interessanti El Maria è uno terrorizzato dalla Real Engine perché c'ha i colori e lui vorrebbe dei motori proprietari senza colori lo sappiamo che è quello il motivo quello che di cui ha paura lui è che ci sia un appiattimento a livello estetico perché se vai a pescare gli stessi asset poi alla fine asset o comunque la stessa tecnologia tendi ad assomigliarti io non sono convinto che oggi questa cosa sia vera al 100% io ricordo che in epoca 360 PS3 mazza se si vedeva molto questa cosa oggi le fai le cose molto diverse e mi immagino in un mondo in cui la Real diventa molto più centrale di oggi che già è abbastanza centrale è possibile che nascano delle robe dentro la Real che permettano di differenziare di più non che si appiattiscano i giochi Ronin ma stanno facendo una serie nuova che hanno rimasterizzato quella uscita due anni fa è perché non ve la siete guardata cento volte Ronin cioè quella nuova va bene però non è una nuova EP siamo d'accordo ma te il remake di Horizon lo proverai? no treganca Horizon 1 a me è fatto più cagare dei Forbidden West mi ricordo solo quando penso a Horizon io mi ricordo Breath of the Wild l'ho sovrascritto Horizon non è il genere che mi fa più schifo del mondo infatti Forbidden West non mi è dispiaciuto però se penso a Horizon Zero Dawn io penso a Breath of the Wild è una roba proprio vedo solo Breath of the Wild ciao Frack un saluto a Vito alla chat e agli appassionati Dragon Ball ciao carissimi passate a One Piece che così magari dopo vent'anni ci fanno un picchiaduro serio Colocasia se è una direzione artistica per me non c'è sto problema colossale beh però potrebbe esserci qualche problema allora un video di anno annuncia i cambiamenti all'alba dell'avvio dell'Halo World Championship 2024 Microsoft ha annunciato grandi cambiamenti con il passaggio di questo di questa la nuova tecnologia fornita da Real Engine 5 il cambio di nome di tre Fork Industries in Halo Studios con diversi giochi in sviluppo della serie quindi abbiamo tre notizie a Real Engine a Real Engine quindi il motore loro che non era stato secondo me il più grande problema però cioè era bellino da vedere l'altro era vuoto del cazzo però evidentemente hanno avuto problemi di sviluppo cambio di nome che è protezione dei testimoni ci nascondiamo sotto la sabbia altrimenti non capisco oppure banalmente vogliono fare più giochi come stanno facendo e allora usano l'altro nome non lo so stiamo entrando in una nuova era per Halo e alcuni primi scorci possono essere già visti nel filmato in questione ah si vedono gli scorci ah si si vedono gli scorci l'ho visto la serie A l'abbandonerà il motore proprietario Sleep Space Engine che faceva cagare per me a livello estetico da Halo Rich ricordo delle robe già Halo 3 non era la roba più bella del mondo ma era un bel gioco tutto quello che c'è stato dopo a me graficamente ha fatto abbastanza cagare e il Maria in realtà lo odio perché Epic ha tolto Unreal da ogni store ma anche quello che dice Vito o meglio non è solo estetica per me è proprio feeling del gioco nel tempo se diventa lo standard i giochi tenderanno a perdere per unicità possibile secondo me è possibile anche no la cosa che Cifoci dà soldi Epic per il motore mi fa sorridere dice Monaco ciao Marco giocare magari si scambiano cose quello gli sta da una tricologia da una parte tu mi dai l'altra vai a capire che soldi gli danno e il Maria oltre al fatto che la Real si porta dietro tutta una serie di problemi tecnici danni ormai allora vediamolo vediamolo ah no ma parla multiplayer quindi non lo vediamo non lo vedete perché dobbiamo stare qua scusate ma non ho preparato il video avevo preparato solo l'articolo di multiplayer va bene se vede niente cioè che se vede se vede loro che lavorano al computer lo vedremo vedremo quando può uscire secondo voi credibilmente un halo il prossimo halo quando potrà uscire due anni tre anni cioè c'è tempo secondo me 2026 la madonna vabbè due anni ci può stare secondo me si tra l'altro leggevo oggi che metà marathon ha aperto tipo dei test io pensavo che stassero da carissimo amico invece se fanno i test di gioco qualcosina c'è quanto meno lancio della nuova generazione mai secondo me prima di fable se ti fidi dice truce junior remake dell'uno fatto con la real cioè che senza avrebbe annunciare adesso la real e poi fare uscire un gioco con un altro motore fabio no mai mai dai non ci vedo mai lo dico io cioè se vuoi fare uscire un gioco prima fa uscire quello e poi ci passiamo alla real brandizzato a rio vabbè siamo a fantapolitica metafore fantazio metacritic gioco che mi è arrivato l'ho scaricato è arrivato un giorno prima è uscito oggi non lo proverò penso oggi penso che all'inizio sarà domani dopo video influencer e l'orelai mi metto a fare la prima oretta sul tapirulare ma io devo ancora finire il prologo quindi ce n'abbiamo per un po' ciao il chief carissimo grazie per il messaggio che mi hai scritto su twitter però non hai ascoltato l'ultimo episodio secondo me hai parlato come se avesse ascoltato quello di sorichetti non quello di tommaso de benetti che invece è uscito ieri che abbiamo fatto ieri sera io mi aspetto il nuovo gears al lancio della nuova xbox nel 2026 mentre il nuovo halo 2027 no gears a me è sembrato lontanuccio visto quanto ci stanno mettendo gli altri giochi maio tra l'altro 93 è sceso di 1 77 recensioni vediamo la più alta e la più bassa italiana attenzione sotto al 90 l'Italia ma veramente non è non è la versione ah no multiplayer 85 ah è vero gli italiani qua erano i più bassi qua incredibilmente gli italiani più critici Christian Colli 85 ok l'ultima fatica di Katsura Shino e del suo studio zero è un grandissimo GDR giapponese con un problema di identità è persona calato in un contesto fantasy meta referenziale con evidentissimi richiami alle dinamiche collaudate della serie Atrus e del progenitore Shin Megami Tensei al netto di un comparto tecnico arretrato ma compensato da una direzione artistica eccellente metafora e fantasia è un JRPG sospeso in un limbo tra innovazione e tradizione che piacerà immensamente a tutti quelli che amano questa particolare deriva anche se sarebbe stato più entusiasmante giocare qualcosa di completamente nuovo questa roba però secondo me ho sentito pure qualcuno in chat che diceva sì però perché adesso è un problema ci sta secondo me se tu ti eri preparato a qualcosa di molto diverso secondo me ci sta anche per dirlo come un grosso problema la non novità per me non è mai un problema esagerato leggiamo la più bassa dell'italiano su pc the game machine 96 oh faccio il cazzo a the game machine è piaciuto danilo dalla frana voti un po' alti danilo ha dato 93 anche a zelda forse è un po' altino lui di medio dovremo vedere altre cose però è un po' altino per regolarci non per credi 96 deve essere più o meno la madonna nella mia vita una narrazione sorprendente che non si crea c'ho anche dei dubbi una narrazione sorprendente che non si stavo dicendo una cosa poi ho detto minchia troppo blasfemo fatti i cazzi tuoi una narrazione sorprendente che non si crea problemi nel toccare tematiche anche piuttosto delicate è la base per creare un'avventura indispensabile per ogni amante dei giochi di ruolo giapponesi metafora e fantasio è una sorta di jolly che celle in ogni categoria dalla scrittura al sistema di combattimento passando per una serie continua di sorprese che vincoleranno allo schermo per molte ore per quanto mi riguarda si tratta della mia scelta per il goti 2024 senza neppure pensarci due volte danilo dalla frana devi ancora uscire fra il simulator occhio perché sappiamo tutti che invece vincerà lui ho letto giusto ieri che infinite 2 fu cancellato per passaggio all'arreal engine 5 che poi è lo stesso motivo per cui non hanno più utili clic ah dlczzato cyberpunk 2077 dice delta ah non secondo me in entrambi i casi delta i motivi erano ben altri 226 sono i 25 anni della serie alo quindi mi auguro che qualcosa faranno anche se il tempo forse sono un po' strezista cosa dei documenti gli anniversari infrega il cazzo a nessuno se ce la fanno bene ma se ce la fanno quanto puoi incidere nella decisione secondo me di fare una cosa non è che uno lo compra perché è il 25esimo anniversario se si chiamava xenoblade avrebbe avuto un punto in più in automatico dice monaco attenzione monaco contro i poteri forti hai dei dubbi sulla madonna era venuta peggio brusi meno male che mi sono stato zitto era venuta proprio brutta brutta un seguito di Alien Isolation è stato annunciato ufficialmente dal direttore creativo originale così debotto in settimana abbiamo un seguito per Alien Isolation che io non giocai cioè provai a giocare perché se ne parlava super bene ma era proprio vecchio c'era tensione per cari di dio ma era vecchio di interfaccia di cose è tipo Silent Hill 2 oggi allora la dichiarazione completa del direttore creativo di Alien Isolation ha scritto è difficile credere che siano passati dieci anni da quando abbiamo intrapreso il nostro viaggio con la pubblicazione di Alien Isolation quando abbiamo iniziato a sviluppare Alien Isolation avevamo un principio guida a creare un'esperienza veramente autentica che tornasse alle radici del franchise di Alien una nuova storia che catturasse l'atmosfera e il terrore del capolavoro cinematografico originale il 79 il primo Alien minchia quando l'ho visto io sembrava di 5 minuti prima è stato a dir poco incredibile assistere alla vostra passione per il gioco nel corso degli anni e vedere raggiungere così tanti giocatori in tutto il mondo l'entusiasmo l'eccitazione le urla e il coraggio di fronte al più grande assassino del cinema sono stati profondamente gratificati che siate veterani della modalità incubo che vi stiate calando nei panni di Amanda Ripley per il primo emozionante tentativo buona fortuna volevamo esprimervi la nostra la nostra profonda gratitudine è stato un progetto da sogno realizzato da un team brillante l'accoglienza che ci avete riservato nel corso degli anni è straordinaria in occasione del decimo anniversario questo per darmi torto rispetto a prima vaffanculo ci sembra giusto farvi sapere che abbiamo ascoltato le vostre richieste di soccorso in modo forte e chiaro oggi sono lieto di confermare a nome del team che il sequel di Alien Isolation è in fase di sviluppo vabbè il decimo anniversario annuncio lo sviluppo non vediamo l'ora di condividere con voi ulteriori dettagli quando saremo pronti ancora una volta grazie alla prossima volta a loop direttore creativo Alien Isolation diglielo a chi ha comprato l'anniversario di PS5 Pro vabbè ci avrà un oggetto da collezione che diventerà di super valore andiamo avanti andiamo avanti oggi chiacchierate veramente poco c'è stato un annuncio importante e vi dico com'è andata so dell'annuncio lo metto in lista dei one mi eccito mi sono calato le braghe ero molto contento di questa roba perché se c'è un remake che giocherei volentieri era questo Red Dead Redemption l'ho visto e ho detto no non è l'operazione che volevo probabilmente era l'operazione che ci stava aspettarsi visto quello che avevano fatto con GTA però io quando c'era l'online di Red Dead 2 aveva la mappa dell'uno questi ci hanno ributtato dentro il gioco non mi va di rigiocarlo in questo modo non è che non mi va non me ne frega di rigiocarlo in questo modo non mi cambia moltissimo quindi mi rigioco il 2 appena possibile il brand alien lo stanno spingendo per farlo rinascere dice Colocasia film serie in arrivo e ora il gioco siamo spaisati ci si aspettava un commento dice Scar Wolf che siete persone orribili adesso c'è un logo gigante così non vi sbagliare povero Red Dead Redemption un gioco abbandonato per colpa di GTA e ne poteva dare tantissimo no poteva dare quanto GTA cioè è andato bene hanno fatto un seguito della Madonna per me non è una serie che ci ha rimesso ragazzi era 2 online a me non me ne fega niente non ho giocato quello di GTA neanche l'online di Red Dead ma avrebbe cambiato la vita onestamente quindi stickers ci hanno messo anche la roba con gli zombie dentro comunque questa rimasta che costa 50 euro oggi hanno annunciato i nuovi remake dopo lo vediamo Wolfgar Andy Spoochhead Metacritic il gioco di box di cui parlava prima il Maria io l'avevo comprato in early access l'avevo anche portato live e minchia avevo buttato i soldi perché fondamentalmente non era pronto quindi vediamo con 1.0 cosa hanno fatto è arrivato ID ciao caro hai già parlato della morte ah no di Nintendo tra sveglia e giochi mobile o questo è il format dove parli di fumetti non è quello di fumetti non sono d'accordo che Mario Luigi sia un gioco mobile per niente è un gioco portatile di Nintendo secondo me con una faccina carina la sveglia me ne frega il giusto tra l'altro esaurita quindi chiami i stronzi schermo nero solo io solo tu Fabio Volante te lo confermo perché vedo esattamente quello che sta andando live Rockstar ha capito come mungere le mucche ormai beh Monaco dai hanno fatto anche un bel lavoro non è mungere le mune che su è come fanno tutti la remaster costa se vi piace il lavoro vale 50 euro se non vi piace il lavoro non ve lo comprate non mi sembra mungere la mucca siete delle mucche voi? se siete delle mucche sì vi stanno mungendo ma se non siete delle mucche e lo comprate perché vi piace il lavoro che hanno fatto e allora non rompete il cazzo il problema è comprate quando vi piace il lavoro che hanno fatto non comprate perché a prescindere quello è l'errore il motivo per cui molti si lamentano che noi rispettiamo però perché sapete che ci tengo è perché si lamentano anche perché comprano le robe che non gli piacciono che non gli frega un cazzo non lo fate è semplice guarda me io la volevo stare master l'avevi comprata day one a 90 euro se facevano col motore del 2 semplice l'ho vista trailer manco tutto via facile nintendo ha fatto la sveglia il mondo dei videogiochi è morto dice rovin è un'altra cosa non uccide proprio nessuno spazio games 80 con detto che quando è arrivato l'annuncio una risata ma l'ho fatta anch'io Giulia Carassino 8.4 undisputed è un titolo davvero ottimo è già bello completo dopo il lungo periodo di accesso anticipato sebbene possa ancora migliorare migliorare abbiamo un gioco di box perché sai perché ho sbagliato perché non c'era l'ala grande comunque senza voler criticare nessuno il lavoro di nessuno io che non mi accorgo mai di un errore di battitura che in questi boxini ne troviamo 50 settimane c'è un problema di revisione importante nell'industria dei videogiochi molto più delle remastered un cazzo ne vediamo veramente tanti a settimana e io non me ne accorgo di solito cioè salto le parole ormai sono dislessico forte quindi secondo me ce ne saranno del doppio abbiamo un gioco di box che ricerca realismo in ogni suo colpo e in ogni movimento riuscendo nel suo intento per laghissimi tratti tra l'altro so sette righe leggono solo quelle la gente sistemate quelle cazzo di righe tecniche di difesa pugni movimenti dei piedi tutto cerca di essere perfetto con risultati più che buoni e anche il comparto tecnico fa il suo il sudore sulla schiena il sangue dal naso gli occhi gonfi abbiamo veramente ogni dettaglio che mira a farci sentire dentro a un vero incontro di box peccato manchino alcuni contenuti che ne avrebbero arricchito ulteriormente la proposta ludica come la possibilità di svolgere realmente gli allenamenti che avrebbero dato un tocco in più al gioco se le basi e la cura per i dettagli sono questi però è lecita aspettarsi grande cose per il futuro videoludico della box io speravo nel ritorno anche di Electronic Arts ma secondo me Electronic Arts adesso scappa da tutto è proprio un peccato che Electronic Arts non fa più niente secondo me se va male batte e filta proprio si tancia le vene solo loro l'hanno recensito solo Spazio Games non è vero perché l'ho visto recensito anche su multiplayer quindi ci sarà la versione PC multiplayer infatti gli da 80 a cura di Lorenzo Copefazio l'estetica ricorda un sacco comunque Fight Night Fight Night Undisputed non è un gioco perfetto ma è realizzato da gente appassionata di box che sa perfettamente restituire l'essenza della nobile arte già la presenza di oltre 70 taleti tutti ottimamente riprodotti testimone piuttosto a favore del fatto che ci troviamo di fronte a un prodotto imperdibile perché è rimasto orforo di una simulazione di questo sport sin dai tempi di Fight Night Champions del 2011 Champions minchia anche la modalità carriera offre un buon numero di incognite parametri da considerare tali da rendere la progressione incerta imprevedibile sorprendente quanto basta sul ring poi le cose funzionano a dovere con un sistema di controllo profondo e l'incombenza del consumo della stamina a gestire il ritmo di ogni round peccato solo per qualche piccolo intoppo della telecamera per alcune animazioni non convincenti e per la relativa arbitrarietà sull'efficacia della difesa giudizio sospeso sul multiplayer online invece per mancanza di giocatori con cui testare questa modalità al di là delle piccole storture tuttavia a disputa è il gioco di box che stavamo aspettando non un gioco perfetto ma una simulazione validissima e dannatamente soddisfacente dai sembra bello brave brave stavo giocando a silent hill 2 ma quello sarebbe un bel gioco dove siamo finiti attenzione molto severo brave non è brutto secondo me brave è vecchio non so se tu hai giocato l'originale però ci sono delle cose che ho trovato orribili anch'io cioè la roba dei cassetti è di gente che non sa fare i giochi nel 2025 andava corretta assolutamente non puoi mettere vado davanti a un cassetto e sto 8 ore a cercare il pallino la modalità il mondo della versione demoniaca del mondo è proprio sbagliato secondo me più delle animazioni facciali quello è sbagliato ciao Ivanir ti perdoniamo per il ritardo perché noi amiamo la nostra community Ivanir e perdoniamo tutti dice poco penso sulla recensione non lo so vabbè carino ve lo porto appena posso and disputete però adesso comincia un periodo complicato tra cose che devo fare cose che devo fare contenuto lavoro che ancora ci vado ormai parte del mio lavoro è diventato preparare le robe di stronzo di contenuto eccolo signori nintendo sound clock all'armo annuncia trailer sentite a me me ne frega talmente poco il cazzo che non ho visto manco che fa quindi facciamo finta che lo sapete voi è una sveglia se vi muovete se ne accorge fa i rumonini fa le faccette tutto molto bello ma non me ne frega il cazzo contenuto e lavoro nella stessa frase no non sai come la penso it hai un tuo show per lamentarti dei credo guarda ti ho messo due argomenti credo tra l'altro oggi non so se c'eri stavo da teo è partito con un pippone a favore tuo insopportabile proprio sei proprio rincoglionito teocrazia brave non giocai l'originale volevo recuperare dato che tutti ne parlavano come capolavoro ma forse ho un altro concetto di videogioco è tutto un trigger i nemici hanno movimenti random senza anticipation boh guarda brave fatti un piacere abbassa la difficoltà dei combattimenti non te deve vergognare cioè non pensare di essere meno uomo perché abbassa secondo me se quella roba ti dà fastidio te lo godi un sacco di più perché sono d'accordo con te secondo me è talmente scorretto ma c'è un motivo in realtà possiamo parlarne poi se si è alzato giusto ma quanto dura sta cosa 4 minuti e 48 poi parlo di salentil 2 per entrare 5 minuti ma siamo passiti io credo che il loro obiettivo sia di non farti sentire al sicuro con un combat efficace credo sia passata proprio una scelta e infatti ti riempiono di medikit perché tu ok il colpo lo prendi non ti senti al sicuro ma c'hai sempre abbastanza medikit per curarti però secondo me qui arrivo al dunque nell'originale era così perché non potevano fare meglio c'era un casino sul gestire il 3d non erano capaci quindi l'operazione di oggi non doveva replicare quella roba secondo me doveva fare un combat figo quella roba è orribile però ci sono le opzioni non ve ne vergognatene e vergognate usatele se metti a easy ti godi più il gioco ti godi l'atmosfera che è la roba bella di questo la sveglia perfetta per portare a casa le tipe dice Ronin teo mio fratello in Cristo sì ma è insopportabile tra l'altro merito mio se ti vuole bene ma ho sbagliato tutto nella vita con questo format se non esce fuori che sei un pezzo di fango e ti devono odiare il motivo per cui nasce ce lo dice Idy è che voglio che la gente ti odi e che veda quello che sei realmente non volevo interrompere ma so che sei persona di cultura è onesta no brevi ti ringrazio ma tanto stiamo a vedere una sveglia di venerdì sera alle venture 34 siamo in 80 persone a guardare una sveglia e direi che anche basta Sony sveglia i giochi più scaricati da PlayStation Store a settembre per PS4 e PS5 dove è Astrobot? si domanda multiplayer.it che ringraziamo sempre a multiplayer non abbiamo mai chiesto posso incularvi la roba però a lettera l'ho detto a un certo punto ci siamo visti con lettera glielo ho detto lettera prima o poi lo invito forse prima di Mancosu con cui non c'ho manco una mele sarebbe più complicato da organizzare però lettera invece lo conosco mi farebbe molto piacere organizzare un 15 per la vita con lui ma secondo te se svegli e le vendono o fa la fine dell'hub le hanno vendute breve non ti preoccupare secondo me hanno fatti soldi anche con l'hub per quanto gli cosa costa da loro Scarwolf non avendo mai messo un combat system nei loro giochi precedenti è pure possibile che non fossero in grado di fare meglio eh Scarwolf possibile ma secondo me è evidentissimo in questo remake nelle mie quattro ore di gioco che questi non sono capaci quindi il materiale di partenza era talmente buono che sono riusciti a tirare su un prodotto che non sembra una merda ma secondo me che loro non siano capaci si vede anche così poi secondo me mai un capolavoro della madonna sono proprio molto stupito delle quattro ore di questa reazione entusiastica è carino funziona però minchia se è un ciocco di legno cioè non è resident evil 2 sei un altro stipendio gratis di net addition dice id giorgio melani ci dà questa cosa vediamo dunque la classifica pubblicata da sony sul blog ufficiale di playstation partiamo dunque con i giochi più scaricati su ps5 in usa nba warhammer iasport fc vabbè fifa invece può stare minchia vende così tanto in america fifa terzo però astrobot meno di warhammer porca puttana se vi odio più di wukong e nfl perché è uscito agosto comunque però non è uscito manco da tanto nfl gta 5 ancora il settimo posto dopo 25 anni e 150 milioni di copie vendute a chi cazzo lo stanno vendendo gta 5 ragazzi ma è smercia riciclo di denaro le copie di gta 5 dai non ha nessun senso o guard legacy mentre in europa abbiamo fifa astrobot che batte murhammer ringraziando dio sony qua è molto forte nba wukong gta 5 o guard legacy polvo o pal world a palla di fuoco comunque siete qua siete qua the crew motor fest bravi ah al decimo posto oh ma zio feliero che fine ha fatto è un po' che non lo vediamo test drive al limite al solar clone al decimo posto abbastanza sorprendentemente mi sorprende più fifa di warhammer e infatti anche a me abbastanza nintendo annuncia una fase di test per switch online e ne arriva una nuova funzione speciale non si sa cosa sia non si sa cosa bene hanno firmato un nda questo si sa ma può voler di tutto e niente onestamente se conosco nintendo neanche gli fanno lontanamente capire che è una funzione di switch 2 perché sanno benissimo che se fai un test aperto di questo tipo la gente chiacchiera esce fuori siccome nintendo i suoi segreti li tiene secondo me è una cazzata propria sarà una stupidaggine minchia che uscirà e sarà veramente una puttanata non mi aspetto mai il nuovo online di switch 2 ma neanche una roba grossa a livello di comunicazione come gli obiettivi cioè sarà veramente non ti chiedo più il codice amico a 14 cifre ma a 13 una roba così ogni bambino che fa 11-12 anni si sente più grandicello direi Colocasia non so di cosa stai parlando e non riesco neanche a immaginarlo ma se è una roba illegale io mi dissocio Monaco sono gli stessi che comprano FIFA e COD tutti gli anni pensavo peggio Astro dice Fabio Volante eh bisognerebbe capire però quante cose copie secondo me il fatto che stai sotto Astro Bot che non ha venduto 5 milioni nel mondo mi pare che loro sono super contenti ma forse anche meno forse 2 milioni e sono super contenti vuol dire che non ha venduto un cazzo per un gioco Sony Fabio vediamo un po' c'era una notizia su quanto ha venduto Warhammer per capire no quanto questo è solo il digitale comunque quanto ha venduto Warhammer magari Sony è più forte anche sul film vedi 2 milioni di copie al lancio vuol dire che Astro Bot è sotto mentre per Warhammer è festa grande 2 milioni Astro Bot sotto i 2 milioni mi sparo in testa e mi tiro una trambata secondo me secondo me ah chi vende GTA ogni bambino che fa 11 anni si sente eh se tu dici crescono i piccoli eh però minchia settimo posto in teoria vendi in America l'NDA prevede che un parente eh sopra in Europa bisogna vedere di quanto però l'NDA prevede che un parente stretto di ogni persona che fa il playtest venga preso in ostaggio da un ninja di chiodo non scherzerei dice Bruce dove posso trovare i dati di vendita ufficiali dei giochi non li trovi Mattos Matt è una roba mal comunicata dall'industria che non vuole farti sapere bene le cose non si sanno mai precisi ci sono delle fonti mi fanno cagare quindi te le sconsiglio l'elenco dei giochi regalati a ottobre da Prime Gaming è davvero impressionante sono quasi 30 già adesso signori per gli abbonati Prime non dico che dovete usare qua l'abbonamento ma se ce l'avete usatelo ci sono un miliardo di giochi tipo ieri regalavano Doom Eternal sullo store che è vero che lo giocate sul pass ma se non c'avete il pass è comunque meglio di un calcio in culo I've Jump 2 Scarf Tomb Raider Legend The Eternal Cylinder Speed of the North Nostra East Rose Busthock Remaster Doom Eternal Dreadout 2 Ghost Puzz Speed of Slash Lish Prime Simulator The Gap dal 17 ottobre abbiamo Mystery Box Black Circus Struck The Dark Skilling Front 2 Zombies Dead Mine Dal 24 Papi Jet The Gang The Gang è carino me lo ricordo Stasis Gargoyles Monster Train Morbid dal 31 ottobre Plague Tale Innocence Death Door Haunted Hotel Personal Night Proclamation Scorn e Coromon Comunque è una lista che è migliorata un sacco negli ultimi mesi si hanno ricominciato a tirar fuori roba molto bella Amazon quindi tra un po' secondo me tolgono gli abbonamenti Prime e dicono però vediamo i giochi Fabio solo chi va da Dio comunica le cifre esatto Sandro Burro Prime poi ti fa i giochi un po' in tutti gli store tranne Steam vero Sandro assolutamente adesso hanno messo pure dei collegamenti più veloci è tutto molto pratico e splendido Six Daniele siamo andati con Prime per tre mesi grazie Prime un onore riscattarlo qui maestro grazie a te Sixel adesso abbiamo un po' di trailer ne abbiamo ben quattro e poi chiudiamo con un altro Metacritic signori partiamo da un annuncio che mi fa molto contento anche se arriva in un periodo un po' del cazzo ed è ovvero la data d'uscita di Rise of the Golden Idol seguito di uno dei capolavori del nostro secolo ed esce vivare 11 novembre tanto hanno rifatto tutte le interfacce del primo lo stile è cambiato un sacco comunque vediamo che hanno combinato mi piace comunque mi piace un sacco mi piace più del primo lo stile sì questo day one l'ho chiesto se arriva meglio se no io anzi questo se arriva per dargli i soldi lo compro e lo mettiamo in regalo per la community di vaffanculo se non costa 40 bombe se costa 20-30 sì ve lo regalo e lo voglio bene ma non è che lo voglio così vi rispetto ma non è che lo voglio bene mamma mia che voglia tra l'altro solo che 11 novembre caga veramente erca intanto la lua fresca si è abbonato anche lui con Prime non era un invito ad abbonarvi se no i di mi rifaccia che ho chiesto gli abbonamenti volevo solo dirvi che c'era dei giochi quando c'è qualcosa a riguardo GameIndo se dice sui dati di vendola dice Scar Wolf sì però sono pochissimi un'altra una roba che mi interessa molto di più adesso ho scoperto che Tetris Forever fa parte della collana di Digital Eclipse quella sui documentari quella di Karateka di Atari e di Jeff Minter quindi per me è diventato day one manco ci penso pure se è brutto eh si è persa sta cosa e di meno male tra l'altro già mi era venuta voglia ne deve uscire anche un altro diverso importante adesso è diventata una roba che non vedo l'ora di giocare delle varie versioni mi fregavo di questa Game Boy un pochino sì però mazza che lavoro ne hanno fatto cioè per fare questo documentario sono andati a pagare tutte le versioni adesso ci arriviamo Vinerbaco adesso ci arriviamo portate è il Vito Wiggly c'è tutto ragazzi lo sapete che il Vito Wiggly non è una roba da scappare di casa cioè voi potreste la settimana non fare niente masturbarvi H24 arrivare qua sapere tutto del mondo dei videogiochi caccia la verità Fit Arti 5G che signor Giancarlo questa roba l'ho scoperta da round 2 vi ricordate la roba vabbè il trailer si vede una merda perché come al solito è in versione schifida però lo state vedendo tutto Giancarlo era quello delle amazzoni e la figa per la promozione di Codd hanno fatto questa roba senza senso ma davvero divertente ah tra l'altro questo devo giocare adesso ecco qual era l'altro gioco che esce il 24 ottobre poi c'ho Mario e Luigi ho preso Mario Party Jamboree ho già trovato il gruppo fottetevi per giocare Jamboree quasi un gruppo Artify ti stanno dando la caccia datti alla sì sì questo veramente Sizz Daniele cioè noi ne stiamo parlando ed è divertente poi non credo che venda copie e soprattutto non la venda ai giocatori di Codd normali però è una bella pubblicità eh però se la vanno a cercare i ragazzini si fanno una risata secondo me è super funzionale dai ok i ragazzini andranno a cercare chi è il signor Giancarlo e troveranno quella roba che fa ridere a tutte le età poi ci vediamo appunto il trailer di Tomb Raider 4-6 Remastered stessa operazione fatta con i primi tre quindi pulizia degli originali diciamo quasi quello che fa la modalità PC cioè se lo metti su PC ci sono i filtri io lo pulisco madonna c'era pure Coso pure Angel of Darkness un lavoro non terribile ma secondo me non efficace non a bel cioè preferisco giocare gli originali se devo giocarlo così non ho nessun motivo di avere questa di spendere soldi per avere questa roba identica secondo me è troppo pulita ecco quindi non mi interessa mamma mia Angel of Darkness Angel of Darkness ne lo aspettai tanto ragazzi mi ricordo quanto ho sbavato sulle immagini che quando è uscito Angel of Darkness che a guardarlo oggi ci sono pure affezionato comunque era un Tomb Raider iddi siete tutti malati tranne me vorrei l'opinione di Maffiorelli su Mario vedrai che noi che ne capiamo ti diamo tutti la stessa risposta dice iddi sul fatto che vabbè ma io devo saperlo se il gioco è bello non sto dicendo che il gioco è bello l'ultimo Metacriti di oggi invece è su Europa gioco di cui avevo provato la demo di cui non me ne frega moltissimo perché secondo me la demo faceva un po' cagare ma chi lo sa 79 però 79 pc non ce l'abbiamo switch non ce l'abbiamo ma io su multiplayer l'ho vista perché è da là che ho deciso di fare questa roba a cura di Nicola Armondi voto 8 Europa è un giorno in stile studio Ghibli non è mai bello riassumere un'opera in modo così diretto ma è comodo per farvi capire subito di cosa si sta parlando i creatori di Europa sono riusciti perlomeno a non limitarsi a copiare lo stile grafico di Miyazaki e Co ma hanno anche compreso come raccontare una storia che ricordi effettivamente quelle del creativo giapponese certo questo significa che a conti fatti è più un omaggio che una interpretazione personale ma i fan apprezzeranno in termini di gameplay non ci si deve aspettare troppa sostanza ma svolazzare sulla luna di Giove è piacevole e rilassante anche grazie a una componente sonora di alto livello e un ottimo doppiaggio la palla al cazzo è uno di quei giochi in cui te ne vai sulla mappa raccoglie pallini colorati cioè per me è veramente una roba oscena poi non so se il gioco è esattamente così signori è finita anche per oggi grazie mille della compagnia noi ci vediamo domattina per First Pranks e poi credo Lorelai non mancate perché Lorelai siamo alle battute finali cioè mancheranno altre 40 ore però stiamo andando avanti secondo me stanno arrivando i momenti decisivi mi porto da Retro Bigini che sta giocando Zelda vabbè poi domani ci ricordiamo gli altri appuntamenti ricordiamo domani Vito Red Roulette se sono preso bene e Idi si comporta bene potrei far scegliere comunque un gioco alle persone rincoglionite che hanno usato i punti in queste settimane anche se c'era scritto chiaramente nel regolamento che non potevano riscattare un gioco oppure potrei fare una cosa più divertente potrei farlo scegliere a tutti quelli che hanno fatto ma tranne Idi tutti tutti tranne Idi potranno usare quei punti anche se hanno sbagliato questo secondo me farebbe molto gag farebbe molto farebbe molto divertire è molto show questa cosa ci ho pensato adesso ci ragionerò questa notte l'orelei devo saltarlo per evitare spoiler a domani no Scar Wolf devi aprire una finestra Twitch e non ascoltare dobbiamo spaccare i culi qua ciao cari alla prossima ciao ciao ciao